di Wrestling Italia, penso di aver rubato la parola, l'annunzio, l'annunzio è giusto. Tranquillo, lo show è appena finito, siamo al Wrestling Force qua a Barkin, Daniele ha arbitrato praticamente tutta la serata, vedete, è stanchissimo. Daniele, com'è andata la serata? La serata è andata benissimo, ho dovuto fare i 6 match, come hai visto tu, tanto difficile, però alla fine ce l'abbiamo fatta, molto cardio, come ti dicevo, comunque adesso ho visto quello che dicevo nella mia interview, come funziona, non rispettare i passi e tutto quanto. Comunque sia, vi aspetto tutti voi italiani, anche italiani a Londra, qui a Wrestling Force, io sto l'annunzio, che l'annunzio si è divertito oggi. Ah, è stato bellissimo.